Quindi, tra te e questa ragazza c'è stato soltanto un bacio? Sì, devo ammettere che non è molto, ma... non faccio che pensare a lei. Sei innamorato? Sì, sono innamorato. Tu perché hai divorziato da Alfredo? Piuttosto dovresti chiedermi perché mai l'ho sposato. Perché l'hai sposato? Era un uomo molto bello, eccitante, affascinante, potente, ricco. Raffinato è pericoloso. Gli uomini italiani sono molto raffinati. Poi è cambiato? Niente affatto. Per questo ho divorziato. Aspetta, 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 aspetta. Vieni. Vieni, vieni, aspetta. Vieni, vieni, aspetta. No, 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 ma dove vuole andare? Amo questa piazza. Venite, venite. Mi commuove pensare che quelle monete rappresentano desideri e sogni di centinaia di persone. Adoro questa cosa. Una costellazione di sogni e speranza. Dai, esprimi un desiderio. Io desidero aprire soldi. Gettarli via mi sembra un po' un controsenso. Adesso. Ok. Fatto. Ora tocca a me. Io desidero che Thomas Gregoire mi perdoni. Io desidero che avevo un po' 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 un